Dovrebbe essere Tsukuyomi di quest'acqua Ma che su? Ha 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 No. Brava. E' che non sto al tempo. Wow. Questa è questa gentilezza, non me l'aspettavo. Chica. Eh, non è possibile questo stallo manco, se si cazzo. Andiamo, ma te? Eppure li beccavi, se stanno. E' quello che cazzo. E' quello che cazzo. E' quello che cazzo è la ultima. E' qua qui. Ah sì Uno per cazzo Mamma mia Cagazzi Niente Non so io a ridere Prima che mi accusano dei BS, dei PM Non sono io a ridere Ah dai ma perché Cioè gliel'ha pure dato Boh Dai Dai Ese è serio Dai la capa Perra, c'hai i minion addosso! Perra, c'è l'escrizione! eh come cazzo fa sta a pulire la torre così velocemente quello ma poi, non sempre così in poca vita, ma quando mai? Oh cazzo è una madonna a te idiamo solo due, solo ultimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho capito perché... Ho cancellato il mio dash. Ho cancellato il mio dash. Ho usato la ult per girarmi e fare danno. Mamma mia Achilles, però c'hai un clear che... Oh... Eppure l'hanno baffato, eh. Quello del... Oh... 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 Oh...